Secondo indiscrezioni diffuse in rete, Marco Mengoni sarebbe segretamente fidanzato con una persona molto riservata. Il giovane, che senza ombra di dubbio è uno dei migliori cantanti italiani negli ultimi anni, starebbe vivendo un grande amore. Per lui dunque anche la vita sentimentale, oltre che a quella professionale, andrebbe a gonfie vele. La vita privata ce l'ho, ma fa parte di me e me la tengo per me, aveva confessato Marco Mengoni in un'intervista a Grazia. E poi lo sfogo. Sono un ragazzo che crede negli esseri umani, ma so che alcuni non hanno abbastanza sensibilità per capire. Si tratterebbe di una persona assai riservata, poca amante dei riflettori e assai legata alla sua desensano del Garda. Sembra che i due siano inseparabili. Convivenza in vista? L'indiscrezione, firmata da Alberto Dandolo su Oggi, sta già facendo il giro nel web. Per restare aggiornato sul gossip, iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook.